Nando Mariano Parliamo di un altro nome, no? Nando Mariano Un altro artista della nostra grande città, della nostra Napoli con lui che comunque è super amato da tante persone è vero, le tue canzoni rispecchiano molto, molto, tanto amore Buonasera Nando Buonasera Mario, scusami perché non volevo girare le spalle ad una donna questo lo devi chiedere al pubblico che dopo tanti anni spero che mi amano ancora perché per essere presente qui in questa manifestazione vuol dire che mi amano ancora se no il nome sarebbe un po' svanito nel tempo Allora, che ci fa ascoltare Nando Mariano, Ida? Allora, Nando Mariano ci farà ascoltare una bellissima canzone che annuncerà stesso lui è vero perché è una sorpresa per tutti quanti mi raccomando cantatela perché oramai la conosciamo in tanti è una canzone che ho avuto il piacere di cantarla e me l'ha scritta un grande che si chiama e oggi devo dire grande veramente con un applauso forte perché è uno che porta la bandiera a Napoli si chiama Nino D'Angelo quindi un bel applauso forte è lui che mi ha prodotto per tre anni e mi ha scritto questa canzone che poi per me è un ricordo bellissimo perché l'ha scritta per mio padre l'ha cantato lui nel disco nel 96 e il donore è diventato doppio quindi io ve la propongo stasera con la mia modesta voce e con la mia interpretazione sperando che vi piaccia Nando Mariano grazie 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 a voi per l'invito c'è un omaggio per te da parte dell'organizzazione Mario diciamo anche una cosa che dice di recente Nando Mariano ha realizzato proprio un suo concerto al Palacasoria qui quindi voi siete di Casoria penso che comunque e ci siete andati tutti quanti quindi prossimamente sicuramente organizzerai tanti vari eventi concerti sicuramente è un cantante vivo di musica quindi è importante fare concerti per incontrarsi un po' con il pubblico che voglio bene ma noi siamo un po' del popolo perché facciamo tante cerimonie feste quindi diciamo che sono tante persone che incontriamo tutti i giorni noi veniamo da un progetto popolare e siamo fiori di portarlo avanti perché portiamo la musica napoletana in tutto il mondo ma in modo particolare nel cuore di tante persone che ci vogliono bene grazie di tutto grazie grazie a tutti grazie a tutti